buongiorno a tutti e bentrovati nel canale artiallegra come ogni martedì con una ricetta light oggi prepariamo un contorno le zucchine grigliate gli ingredienti per questa preparazione sono zucchine a fette sale origano aglio olio di oliva prezzemolo e basilico tritato fare riscaldare la bistecchiera aggiungendo un pizzico di sale poggiate le fettine di zucchine sulla bistecchiera e rigilatele solamente quando saranno ben dorate continuare così fino alla fine preparare nel frattempo il sugo del condimento mescolando il succo di limone l'aglio tagliato a fette l'olio l'origano il sale il basilico e il prezzemolo tritati tenerlo da parte non rimane a questo punto che comporre il piatto e il nostro contorno è pronto con questa ricetta io vi saluto come sempre vi invito a iscrivervi al mio canale a commentare e a condividere i miei video con i vostri amici se avete delle domande non esitate a contattarmi nella mia pagina facebook di cui trovate il link non mi rimane a questo punto che salutarvi e come dico sempre alla fine di ogni video ciao e una buona giornata a tutti